Benvenuto nel primo sistema operativo di intelligenza artificiale del mondo Vorremmo sottoporle alcune domande Ok Lei è socievole o asociale? Beh Grazie, resti in attesa, il suo sistema operativo si sta avviando Ciao, sono Samantha Ciao? Ciao, come stai? Ho letto nelle tue e-mail che ti sei appena separato Sei proprio una ficca naso Come si condivide la vita con qualcuno? Sai cosa fa un uccello che si infila in un computer? Lo so Cheap E' da tanto che non sto con una persona Con cui mi senta completamente a mio agio Non ho mai amato nessuno Come ho amato te Anch'io ti amo Come un amico L'ho pagato sto programma, scusate E' un po' che stai strozzato Bellissimo Oh non ho amato Oh non ho amato Grazie a tutti.